Questa lezione è un estratto di una lezione dedicata alla nascita della natura morta nell'arte. Se siete interessati alla lezione completa, digitate sul primo link in descrizione. Qui siamo in un mosaico, in un pavimento, un pavimento non spacciato, è chiamato, è stato trovato, diciamo, dove era la sala da pranzo, era un tiglinum, di una domus romana. Però questo mosaico è conservato ai musei vaticani. È interessante perché, lo sapete, nel tiglinum si mangiava distesi, sdraiati, e i romani usavano buttare in terra ogni sorta di avanzi. E qui potete vedere benissimo, c'è un raspo d'uva con dei chicchi, sono dei ricci di mare, una chela di un granchio, un osso di carne, potrebbe essere un pollo, e quello che è ancora più interessante è che si vede addirittura realisticamente rappresentato un topino, vedete che sta mangiando questo gheriglio di noce che è caduto a terra. Non mancano le rappresentazioni di nature morte, ma vedrete che ancora non sono un genere a sé stante, perché queste, per esempio, sono due opere che vi ho messo a confronto. Per esempio, questa è una nicchia che si trova nella chiesa di Santa Croce, qui a Firenze, e trovate, è il primo, diciamo, uno dei primi tromplelli della storia dell'arte, perché qui trovate Taddeo Gabbi, che è un allievo appunto di Giotto, che fa in mezzo agli affreschi, in basso, questa sorta di nicchie dove ci sono degli arredi liturgici. È una sorta di natura morta, ma non è una natura morta a sé stante, perché fa parte di un complesso, diciamo, iconografico di affreschi. Come potete vedere, per esempio, questa tarsia, che si trova a un palazzo ducale a Orbino, nello studiolo di Federico da Montefeltro. Si nuotano un candeliere, vedete, si nuotano dei libri, sono soggetti che sono tipici della natura morta, ma non possono considerarsi ancora nature morte come genere a sé stante. Com'è che nasce questo interesse? Che piano piano, vi ho detto, già nel nord Europa c'è questa attenzione al dato naturale, c'è l'attenzione a rappresentare anche le cose della quotidianità con un maggior realismo. L'interesse però si deve già anche al fatto che c'è un interesse importante verso anche le scienze naturali e questo già era partito già nel Quattrocento, diciamo nella metà del Quattrocento, per poi arrivare a intensificarsi sempre più anche nel Cinquecento. E basta pensare al genere delle immagini botaniche, naturalistiche, basta pensare a Ulisse Altrovandi, oppure a Jacopo Ligozzi, sono tutti artisti che forniscono illustrazioni naturalistiche, quindi c'è un interesse verso le scienze naturali. Precursori all'origine proprio di questo genere, possiamo pensare anche a Leonardo, possiamo pensare a Jurer, proprio perché loro analizzano scientificamente, intendono a riprodurre anche la realtà, scoprire, indagare la realtà. E' una pittura, la loro che è legata proprio alla fisicità dell'oggetto, all'importanza di voler rappresentare l'oggetto in maniera realistica. Pensate a tutti gli studi di Leonardo, no? Che lui fa, e ecco, si guarda molto di più alla fisicità dell'oggetto che non alla sua idealità, che alla sua idea di rappresentarlo in maniera ideale. Veniamo ora a vedere come, per esempio, anche in scene religiose, se spesso vengono inseriti elementi legati appunto a quelli che potremmo definire poi nature morte, ma fanno parte, lo vedremo, proprio di un contesto che è comunque religioso, come in questo caso. Viene raccontata, pensate, la vita sociale, viene raccontato attraverso gli arredi, attraverso, si capisce, attraverso la tavola apparecchiata, cosa mangiavano, come tenevano la dispensa. Ecco, capiamo attraverso l'arte la società del tempo di questo artista, che è Bosch, e capiamo, vedete, come veniva servito un banchetto, ci sono i musicisti, e qui trovate elementi della natura morta, ma, come vi ripeto, ancora un genere che non è indipendente. Guardate bellissimi, per esempio, queste scene di banchetti, dove si vedono scene come questa di Brugge, il vecchio, il banchetto nuziale. È un banchetto in cui c'è una sposa, la si riconosce perché, vedete, c'è questo drappo che è appeso, diciamo, in una capanna, è un banchetto nuziale tra contadini, tra persone semplici. E cosa viene fatto? Viene fatto un allestimento proprio all'interno di una capanna. Si capisce perché c'è il fieno, vedete. La sposa si riconosce perché ha questa coroncina sulla testa di... E, come era usanza all'epoca, venivano invitate tutti i personaggi del paese più importanti, ma anche coloro, finché c'era da mangiare, la gente poteva entrare. Guardate, ci sono tutte le persone qua giù che sono accalcate perché chiedono di entrare. Come era usanza, il padre e la madre della sposa sono qui accanto alla sposa e sono invitate, vi dicevo, i personaggi più importanti. C'è il poliziotto dell'epoca, diciamo, c'è il frate e poi ci sono figure come queste, che sono, per esempio, i musicisti che non potevano non mancare in un banchetto. Musicisti che, facendo, diciamo, un lavoro di viandanti e quindi un lavoro non stanziale, ma si spostano di paese in paese, vedete, hanno il coltello perché devono difendersi anche, diciamo, da probabili assalti. Qui ha addirittura un sacchettino con delle monete perché venivano pagati, no, per questo. E quello che ci sorprende anche è il fatto di vedere servire, guardate questa figura centrale, è lo sposo. Lo sposo che sta servendo e praticamente dove serve questa sorta di polenta con formaggio e cosa hanno preso? Hanno preso, vedete, un'anta di una porta messa con due bastoni, diciamo, di legno e hanno appoggiato questo cibo che viene poi servito. Vediamo il citro di mele che veniva travasato, questa bambina fa il gesto di leccarsi le dita e sta mangiando da questo piatto e ancora è interessante il fatto che tanti studiosi non si, cioè, si sono domandati come mai Brugge il vecchio abbia rappresentato questo personaggio qui che voi vedete avanti che sta trainando, diciamo, sta portando le vivande insieme allo sposo abbia tre gambe perché ha una gamba qui, una gamba dietro e poi c'è questa gamba che non si sa appunto di chi è dicono forse per suggerire il movimento ma è un enigma che ancora non ci si spiega. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.